ecco qua il palazzo bonelli ho iniziato dal palazzo bonelli per dirvi che è aperto oggi è una cosa eccezionale alleluia e allora allora buongiorno 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 sì sì il mondo è un paese e l'uomo è la zona e l'uomo è la zona e l'uomo è la zona e allora e allora oggi è venerdì venerdì 18 settembre c'è i Magher 2015 vabbè c'è che non lo sia stata a vedere che domani è la giornata della disfida di Barletta ragazzi noi sappiamo già che i problemi sono ben altri ma ce ne sono tani di problemi fratelli, sorelle però Barletta è la città della disfida e l'anzipote non vedete io sarò coinvolto io sarò coinvolto farò la quattordicesima la farò per la quattordicesima volta è una bellissima cosa per me io mi metto a disposizione per il mio paese che sono orgoglioso di essere barlettano e lo faccio sempre gratuitamente gratis e poi non faccio più po' e poi ci siamo quasi questa è una cosa ma veramente io non lo so io non lo so cioè questo è scandaloso cioè tutto hanno preso la bicicletta cioè ma veramente no non saputo non saputo no veramente questa è una cosa scandalosa cioè questo è un'ennesima veramente cioè una cosa scandalosa veramente cioè i cinque sorghi hanno lasciato la pillo e questo è una parcheggia della bicicletta cioè un buongiorno così non l'ho mai fatto cioè è veramente scandaloso ma ma pure che salta la cosa è ma vedete ma che salta la cosa è ma vedete questo questo significa sfregiare cioè non avere rispetto veramente cioè non esiste da nascendare signori questo è veramente una cosa scandalosa che succede questa materia cioè avete la bicicletta attaccata e dice ma io non lo so ma non lo so non lo so credetemi non lo so è una cosa veramente vergognosa se è una cosa fatta apposta boh boh allora allora dico io fare qualcosa qualcosa cioè è inutile tenerlo così fare qualcosa che ricordano le cinque sorelle cioè chissà cosa vedi non esiste non devono esistere mi sono disturbato signori mi sono disturbato eh mi vengono un fiore si sta nascondendo ma ora un'ottavo perché ora arrivo un'ottavo tutta un'ottavo a vedere 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 e niente dai va bene oggi vi voglio ricordare che alle 17 alle 17 presso il vicino al porto sarebbe la literaria ponente nonché del grande mitico pietro mennea del grande mitico pietro mennea ci sarà ci sarà il combattimento della sfida di barretta i 13 cavaliere è una cosa che vogliono provare di fare cioè è però di che io questa è un'altra cosa che a me mi prevede ma per c'è non pubblicizzare queste cose che molta gente non lo sa molta gente non lo sa non lo sa oggi alle 5 c'è questa cosa anche se è un'esibizione però è bello che la gente lo deve sapere non lo va sapere da barretta questa tsunami e dai va bene dai non prolunghiamoci perché poi diventiamo poi diventiamo pesanti non lo sa non lo sa non lo sa ma è disturbato veramente signori veramente comunque vi auguro un buon venerdì un buon inizio weekend auguri per chi festeggia compleanni matrimonio a proposito di compleanni oggi è il compleanno di spiriglione crudere auguri spiriglione ti voglio bene e anche a tuo fratello Antonio che ci guarda da lassù già parlare l'Italia è stata l'è l'Urlus ciao